Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti a un altro episodio sempre bullish infatti sono anche vestito di verde delle nostre live settimanali inizio sempre con la solita immagine di warning dedicata a coloro che seguiranno la mia differita su youtube vi avviso che purtroppo un sacco di bot ultimamente stanno martoriando il mio canale con commenti scam quindi state attenti se trovate un commento che è fatto da un profilo clone del mio che ovviamente se cliccate poi non ha video non ha contenuti quindi si capisce subito che è falso però il nome può trarre in inganno state attenti e diffidate soprattutto se vedete che è scritto con dentro dei simboli strani che sono fatti per ingannare i filtri anti spam di youtube e soprattutto se vedete che vi chiede di scrivergli in privato o di contattarlo in privato secondo voi se un minimo mi conoscete io vi chiederei mai una roba del genere mi auguro che lo sappiate inoltre per distinguere i video e scusate i commenti reali da quelli falsi potete anche far affidamento sul fatto che quelli reali i miei sono evidenziati in neretto come quello sotto nell'immagine proprio perché è fatto apposta da youtube insomma per mettere in evidenza il reale commento del proprietario del canale mi spiace dover fare questa precisazione ogni volta però purtroppo l'unica arma che ho contro questi farabutti è avvisarvi e far sì che voi non ci caschiate mi raccomando detto questo ritorniamo a noi perché oggi abbiamo un sacco di cose da dirci abbiamo il nostro caro bnb che sta facendo numeri senza senso e tant'è che in mille di voi più o meno mi hanno chiesto di parlarne e guardarlo lo faremo lo faremo direi che oggi è il protagonista assoluto ragioneremo anche sullo stato dell'arte della defi delle blockchain quindi ethereum versus bsc versus solana versus tutto il resto perché è sempre uno spunto di discussione secondo me interessante e stimolante poi andiamo a dare un'occhiata al nostro bitcoin che ultimamente insomma non è che ci stia facendo non sta facendo parlare tanto di sé perché è lì che aspetta è compresso tra il massimo assoluto storico e il suo supporto che ha riconquistato con i denti e con il sangue e dobbiamo un po' vedere da che parte è intenzionato ad andare insomma se lo vuole rompere decisamente oppure se è intenzionato a rimanere qua nella sua comfort zone ancora un po' e ovviamente noi andiamo a dare un'occhiata come sempre ai livelli chiave agli scenari al cosa vedere cosa combinare e basta quindi un po' facciamo una panoramica come è di nostro solito e poi come sempre mi raccomando vi voglio con tante 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 domande quindi partiamo subito con le notizie le chicche del giorno allora la prima viene direttamente dal nostro caro Michael Saylor che era da un po' che non faceva parlare di sé ormai il fatto che continua a comprare bitcoin non fa neanche più notizia perché ne avrà talmente tanti che ormai appunto non milione più milione meno non cambia niente ma invece per fare notizia si è attirato fuori questa nuova perla ha deciso di pagare microstrategy ha deciso di pagare il board dei dirigenti in bitcoin questa è una cosa innanzitutto ovviamente loro erano d'accordo non è stato un accordo unilaterale è una cosa molto innovativa e piacevole da sentire perché comunque in un'azienda che si pone così all'avanguardia riguardo a bitcoin ci crede molto e fa appunto tante mosse pionieristiche la prima delle quali è stata aprire le porte all'investimento della tesoreria aziendale in bitcoin direttamente insomma vedere anche che spalanca le porte che crea questo nuovo precedente del pagare i dirigenti tra l'altro in bitcoin totalmente non una parte dello stipendio potrebbe ripeto essere un altro precedente io mi immagino cosa potrebbe succedere se altre aziende magari seguissero l'esempio se altre persone dicessero ma perché non facciamo anche noi così insomma è sempre un modo per fare passi avanti dal punto di vista dell'adoption poi mi viene un sorriso perché io penso ma se lo facessimo in italia una cosa del genere sarebbe possibile ve lo chiedo anche a voi cosa ne pensate a me viene in mente delle banche che ci telefonano e dicono ma perché non puoi più fare le transazioni verso gli exchange altro che essere pagati in bitcoin qua siamo veramente su due pianeti diversi poi notizia del giorno la notizia del giorno vede come protagonista Binance che ha introdotto nel suo exchange giusto così per non saper più cosa inventarsi le tokenized stocks che cosa sono? allora se voi mi seguite per voi da tempo non dovrebbe essere una novità riformulo la frase se voi mi seguite da tempo per voi non dovrebbe essere una novità per quale motivo? perché FTX le ha introdotte già da tempo in memore ne abbiamo già parlato in diversissime occasioni ma oggi ovviamente ne riparliamo meglio perché l'introduzione di uno strumento del genere da parte di un exchange come Binance che ha una platea di utenti decisamente più alta di FTX sicuramente lo porta dunque stavo cercando di vedere se c'era già qua esatto lo porta vi dicevo agli occhi di molte più persone in Binance adesso sotto trading stock token appunto c'è questa nuova voce che è stock token che sostanzialmente permette l'acquisto lo scambio, il trading di azioni tokenizzate che cosa sono le azioni tokenizzate? allora sono dei token, delle cripto che hanno come sottostante l'azione stessa banalmente, ok? Tesla BUSD 696 dollari quindi come potete vedere è il prezzo della stock stessa la cosa interessante di tutto ciò è che il collaterale esiste quindi non è soltanto un sintetico che traccia un prezzo o un valore vi dirò di più se l'azione ad esempio distribuisce un dividendo ai suoi stakeholders chi detiene la tokenized stock ha diritto anche al dividendo stesso quindi è esattamente come possedere l'azione ovviamente non si fa parte del consiglio di amministrazione non si hanno i privilegi di voto che potrebbero dare delle speciali categorie di azioni ma lato investimento, lato finanziario è esattamente equivalente al possesso di un'azione stessa quindi la prima già a disposizione da oggi è Tesla e basta che dire è un trading normale c'è acquisto e vendita non c'è la possibilità di andare a operare in leva e rispetto a quello di FTX in realtà è un po' più semplificato è un po' meno non lo so come dire su FTX c'è molto di più a dire la verità io da grande fan di Binance sapete cosa penso di Binance però tra i due vi dico la verità insomma non so se avete mai visto le stocks di FTX ad esempio su FTX c'è la possibilità di tradare già la stock di Tesla sia spot quindi in USD e in BTC c'è anche il future e anche in Dogecoin vabbè però al di là del margin trading della possibilità di andare long o short appunto per via del future come si può dire ecco su FTX grazie al partnership con quel fondo tedesco che non ho capito ancora se è lo stesso che ha offerto il servizio a Binance perché FTX ha potuto erogare il servizio delle tokenized stocks grazie a una partnership con un fondo tedesco che gli deteneva le azioni in sostanza e lui le tokenizzava e le offriva al pubblico e c'era la possibilità addirittura di convertire il token nella stock quindi in qualsiasi momento tu detieni il token come PAX Gold con l'oro detieni il token e tu fai la conversione in redeem si chiama dell'azione stessa ve lo ripeto su FTX mi sembra più completo questo senza nulla voler togliere a Binance che ha appena buttato fuori uno strumento che è una bomba perché spostare il mercato azionario sugli exchange con i vantaggi degli exchange la liquidità gli strumenti cioè pensate a Binance un attimino c'è tutto cioè tu puoi depositare euro poi ci fai quello che vuoi ci compri bitcoin li metti a rendita li utilizzi per pagare con la carta visa e ottieni anche il cashback in BNB puoi andare a comprare e vendere azioni adesso cioè puoi fare veramente qualsiasi cosa io mi chiedo il conto bancario a un certo punto a che cosa ti può più servire ecco e quindi capite bene che continuare ad aggiungere prodotti agli exchange sono piattaforme che diventano avanti anni luce cioè prima o poi iniziano a soppiantare anche i broker tradizionali di stocks se continuano di questo passo perché c'è più liquidità guardate che roba qua c'è uno spread questo FTX è vero ma c'è uno spread che è minore di cioè sono pochi centesimi di dollaro ci sono delle fee che sono minori dello 0,1% i prelievi gratuiti i depositi gratuiti cioè parliamo nel senso si ottiene veramente delle piattaforme che non hanno più concorrenza tra un po' io mi aspetto una cosa di questo tipo comunque ritornando un attimino sulla terra e ritornando a Binance ve l'ho detto la prima azione tokenizzata che è stata erogata è Tesla altre seguiranno prossimamente ovviamente come vedete qua c'è solo il grafico di Tesla e qua poi ci saranno le nuove stocks e questo è quanto quindi se vi interessa il servizio ah ecco altra differenza tra FTX e Binance su Binance seguirà gli orari di mercato quindi Tesla mercato americano se il mercato americano è chiuso non potete tradare la stock Tesla mentre su FTX mi pare di sì che è 24.7 sia il future che la stock stessa quindi c'è una sorta di mercato pre-market e poi su FTX c'è anche Coinbase non lo so se vi ricordate che fanno anche le pre-IPO qualcuno mi chiedeva infatti ma come si può entrare l'IPO mica IPO e qua ovviamente entrare non so sta al trader in sé io non sono entrato non l'ho neanche toccata al momento vi dico solo che la pre-IPO di Coinbase su FTX lo quota c'è da fare 584 per 250 milioni mi pare che sia quasi 150 miliardi pensate che impatto potrebbe avere se dopo domani viene quotato sul Nasdaq Coinbase con una capitalizzazione di 150 miliardi di dollari wow incredibile sarebbe veramente una non lo so io me lo aspetto in prima pagina su tutti i media a tema finanza ed economia ecco poi sono gasato oggi si sente poi ultima cosa penultima in realtà perché poi rispondo anche a una vostra domanda penultima cosa gli ETF di Bitcoin vi ricordate che adesso c'è un po' il trend il topic o meglio degli ETF su Bitcoin ce n'è tantissimi in attesa di approvazione della SEC nel frattempo il primo quello canadese il primo che è ufficialmente live quindi che di fatto è tradabile già continua a crescere in termini di fondi gestiti guardate siamo arrivati a superare il miliardo si chiama Purpose l'ETF e sostanzialmente dal 22 di febbraio che è la data insomma in cui ha iniziato possiamo dire al pubblico ad adesso è arrivato a cubare 17.000 Bitcoin ve l'ho detto per un controvalore complessivo di 1,24 miliardi di dollari niente male oserei dire mi sa che i fondamentali sono veramente veramente in crescita poi ci troviamo in un periodo storico molto particolare per Bitcoin e io sto iniziando ad alzare un po' la guardia perché vedo troppa retail mode ecco ma di quello magari ne parliamo più tardi mi sembra tutto troppo bello in questo periodo l'ultima cosa su vostra richiesta me l'ero segnata qui ho il mio bel taccuino sapete con i compiti a casa e dove annoto le vostre domande ho annotato grosso così BNB quindi per quello state tranquilli che ne parliamo tra poco ma un'altra domanda che mi avete fatto io recentemente vi avevo parlato sempre su vostra richiesta mi avevate chiesto ma è cambiato PrimeXBT che sapete che spesso io lo uso per fare intraday vi condivido con voi le posizioni e quindi mi avete detto ma come funziona meglio il 2.0 che ha diverse tipologie di margine utilizzabile ve ne avevo già parlato un paio di settimane fa ma non vi era chiaro una cosa mi avete chiesto di nuovo ma se io vado a mettere del margine in ad esempio Ethereum vado a depositare Ethereum io posso comunque andare a operare su tutti i mercati con Ethereum, con laterale oppure solo su quelli contro Ethereum vi rispondo subito allora faccio un piccolo passo indietro per chi non sapesse di cosa sto parlando PrimeXBT è un exchange di derivati di CFD su crypto, forex, stocks così in leva molto alta quindi finalizzato proprio un'operatività speculativa che di solito utilizzo per il trading intraday perché ha delle fie estremamente basse dello 0,05% e inoltre non c'è il funding quindi a differenza del perpetual che ogni 8 ore sapete c'è il funding in questo caso no e in più il prezzo è ancorato al sottostante c'è il funding overnight quindi attenzione non è pensato per tenere aperte posizioni di lungo periodo altrimenti ogni giorno che si rinnova la posizione come i classici broker CFD vi tira giù la fee e quindi appunto non conviene più per l'intraday io mi trovo molto bene quindi ci giochichi un po' molto spesso di solito tu depositavi bitcoin e utilizzavi quelli come collaterale per aprire le varie posizioni adesso come vedete è possibile depositare anche Ethereum, USDC e USDT e sono quattro portafogli diversi in sostanza quando io vado a scambiare a fare, a operare, a fare trading io posso scegliere quale dei quattro utilizzare quindi se io deposito 1000 USDT un po' di bitcoin un po' di ethereum io posso andare poi a tradare sui vari mercati utilizzando quello specifico collaterale sempre in dollari però ok di solito oppure anche sulle varie coppie che sono a disposizione ovviamente vedete qui viene mostrato l'account stesso quindi vi mostra che cosa sto utilizzando in questo caso il collaterale a bitcoin ma se io avessi scelto ad esempio ethereum qua mi farebbe vedere ethereum ma le coppie sono le stesse quindi per rispondere alla vostra domanda si può tradare su qualsiasi mercato vedete, qua li vedete tutti anche il forex gli indici azionari e tutto quanto con tutti i collaterali che volete quindi anche ethereum anche USD ovviamente il valore poi di ethereum viene convertito in base al tasso ethereum dollaro del momento e basta direi che ho risposto a tutte le vostre domande ecco a proposito visto che ultimamente siete così gasati con PrimeXBT io ho richiesto così giusto per farvi un po' contenti altri 5 promo code da distribuirvi da airdropparvi la prossima settimana dovrebbero essere da 0,0035 bitcoin se non erro che sono più o meno mi pare 150 dollari l'uno non male tradabili quindi state sul pezzo perché la prossima settimana mi sa che facciamo dei belli airdrop di promo code su PrimeXBT così potete dilettarvi a tradare in leva 2000 per sulla vostra shitcoin preferita no scherzo sui vari mercati bene basta questo è quanto vi lascio a viscillo anche il mio referral link di PrimeXBT dai ve lo lascio in descrizione su youtube per i posteri per chi mi seguirà dopo adesso io passo invece alle vostre domande perché mamma mia tra l'altro siamo più di mille oggi oggi siamo più di mille quindi mi gasate ancora di più sono talmente gasato che ho bisogno di bere perché altrimenti mi surriscallo ciao Luca da piccolo investitore neofita ho paura di fare il mio solito ingresso mensile questo mese sento la mancanza di un respiro nel mercato adesso che è tutto ai massimi non vorrei ritrovarmi con un pugno di mosche per la prospettiva hold appoggi il mio pensiero oppure credi che non sia poi così fondamentale il livello di ingresso per il medio lungo periodo principalmente seguo Stellar CRO GRT Bitcoin Ethereum e vorrei aggiungere ENG allora ti rispondo subito dal punto di vista del dell'holding quindi del discorso dell'investimento a lungo termine se tu hai un piano che ti sei preparato prima e prevede quindi un certo frazionamento degli ingressi un certo approccio al mercato con costanza tu non cambiarlo cioè non devi improvvisare quindi se tu hai faccio un esempio se tu hai un piano d'accumulo che prevede un acquisto il 15 di ogni mese tu il 15 di ogni mese cascasse il mondo devi fare quell'acquisto se la tua strategia lo prevede non è che se il prezzo è alto dici ma no aspetta che aspetto ancora due giorni aspetto una settimana se il prezzo è basso acquisti il doppio perché così facendo vai a sballare completamente quella che è la tua strategia mi raccomando per riuscire a ottenere un risultato statistico costante significativo con una strategia io vi raccomando di seguirla di non improvvisarne delle variazioni se poi la tua strategia come precostruita prevede che tu operi soltanto durante una fase del mercato rialzista o ribassista o quello che è allora tu hai quella modalità operativa lì avevamo fatto un video apposta tra l'altro non so se vi ricordate dove vi mostravo delle diverse strategie diversi approcci a un investimento di lungo termine dal banale pack quindi il banale acquisto periodico fino a qualcosa di un po' più evoluto come può essere appunto un'operatività più ecco con un'analisi di trend annessa quindi quando il mercato si comporta in un modo mi comporto in un modo anch'io e viceversa e quindi come dire potresti andartelo ad approfondire se ti va così se non ti soddisfa più il pack tradizionale tu puoi sempre applicare una versione di quelle un po' più evolute però decidi un approccio e tienilo perché tu stai ragionando sul lungo periodo e tu immaginati un periodo quindi di 5-10 anni se in questi 5-10 anni tu continui a cambiare metodo a cambiare strategia non hai più poi un benchmark di riferimento e diventa tutto un gran casino ciao Luke pensavo di comprare delle opzioni call su bitcoin mi piacerebbe aspettare un ritracciamento più importante ma temo che la volatilità salga cosa dici a un buon momento guarda comprare delle opzioni non è un'operatività banale quindi se mi stai chiedendo a me se è un buon momento o no non lo so nel senso forse bisogna farsi una domanda se tu vuoi acquistare un'opzione call tu stai dicendo queste due cose uno mi aspetto un incremento della volatilità da qui alla scadenza dell'opzione due mi aspetto ovviamente una fase rialzista del prezzo stesso questo ovviamente se si ipotizza un'opzione nuda come si suol dire ovvero un'opzione senza nient'altro se tu poi già possiedi anche bitcoin o hai altre posizioni il quadro complessivo cambia quindi io potrei ad esempio dire bene io venderei piuttosto un'opzione call ma per vendere quindi ma perché perché io detengo bitcoin ho già una grossa posizione long e quindi non è che voglio andare a comprare un'altra call e a incrementare ancora la posizione perché magari mi voglio coprire capite il senso quindi bisogna sempre guardare il tutto nel suo complesso poi cosa ne pensi di safe moon safe moon mi sembra una cagata pazzesca cioè veramente una di quelle coin pump and dump finalizzate solo appunto a fare pump and dump ho guardato un po' ve l'avevo già detto negli scorsi video la roadmap il feed di twitter così e si fanno cioè pagano comunque delle pseudo celebrità per spammare l'hashtag in giro e per fare parlare di sé quindi questo già per me è un cartellino rosso gigante il white paper e il progetto in sé non mi sembra niente di entusiasmante quindi per me è assolutamente un no enorme poi come trovo lo stock tesla su binance ve l'ho fatto vedere prima nella sezione stock tokens mi pare che si chiami abbiamo detto ci riguardo un secondo se è la vostra prima volta che lo utilizzate gli stock tokens vi fa anche dovete aver fatto il kyc ovviamente quindi la verifica dell'identità col documento e se è comunque la vostra prima volta che selezionate stock token vi fa accettare i termini e le condizioni e basta comunque trading in fondo c'è stock token ci clicchi sopra e ti riporta a questa pagina poi procediamo procediamo allora che ne pensi di quello che sta facendo CHZ e GRT ovvero parli lato grafico andiamo a dare un'occhiata CHZ Bitcoin allora male male CHZ ne avevamo parlato guardate ed effettivamente stiamo continuando nello scenario che avevamo ipotizzato ovvero abbiamo fatto la crescita parabolica top locale vedete grosso sell off grossa svendita questa prima candela rossa mostra questo compattamento all'interno di questo range quindi questa è stata un po' la fase 1 con creazione di offerta e domanda agli estremi dopo di che abbiamo sforato a ribasso il range e adesso siamo un po' in caduta libera in preda alla gravità il prossimo target più probabile è la zona sui 470 satoshi vedete questa evidenziata in verde mentre GRT andiamoci a dare un occhio cosa ci combina benissimo GRT grazie per la segnalazione è un setup long non volevo dirlo ma è un setup long allora guardate cosa sta succedendo questo è il bello di vedere di leggere anche le vostre segnalazioni io non me lo sarei mai filato grazie a voi l'ho notato quindi grandissimo per aver pingato aver tirato fuori appunto questo grafico cosa succede allora avevamo la parte iniziale ok dallo sbarco su mercato fino a questa fase qua in cui siamo rimasti sotto al massimo iniziale 3200 satoshi poi abbiamo rotto questo massimo e abbiamo iniziato a gravitare qua sopra vedete dopodiché c'è stata una fase di ritracciamento un po' prolungata per modo di dire prolungata e si parla comunque di un paio di mesi non è una particolare un gran bear market durante il quale abbiamo rimbalzato un paio di volte sul nostro supporto e poi l'abbiamo perso con retest bearish e via così abbiamo fatto quindi una fase di consolidamento sotto di esso opla e poi guardate cosa ci combina oggi tac reclaim ovvero il recupero del livello stesso qua il pool di domanda di offerta attualmente in realtà che si trova proprio a 3002 cosa ci dice tutto questo allora immaginandoci sempre il mercato come la contrapposizione tra domanda e offerta quando in questo caso l'offerta aveva vinto bucando questa barriera questa muraglia e rimanendo qua sotto dopo di che la domanda si è rifatta viva ha riconquistato questo stesso livello e al momento sta tenendo botta perché guardate tra l'altro che bella candela quella di oggi che ci dice insomma che c'è volontà di continuare a rialzo quindi venendo a noi venendo al al concreto con in caso di una bella chiusura come quella che auspico della candela di oggi qua sopra possiamo andare a cercare esattamente l'entry in questa area di in questo pool in questa zona che abbiamo appena rotto a rialzo possiamo andare a mettere lo stop loss qua sotto ok e vedete che è una posizione con un rischio contenuto e un potenziale rendimento decisamente interessante quindi ottimo setup ovviamente questi non sono mai consigli finanziari mi raccomando non adesso tutti correte a comprare GRT perché io ho detto che c'è il setup bisogna sempre essere consapevoli che un setup non è una certezza ma è una possibilità e poi va comunque calato nella realtà del proprio portafoglio quanto voglio espormi in altcoin se ho già posizioni aperte che capitale utilizzo che tolleranza al rischio perché bisogna anche scegliere poi il size della posizione cosa non banale quindi vi raccomando di non far mai le cose di fretta così solo a scopo di copia di quello che qualcun altro dice che posso essere io ma anche appunto qualcun altro detto questo ritorniamo alle vostre domande andiamo a vedere un po' che cosa avete un po' da dire allora Luca ti odio non bastava youtube ora anche qui ti vengo a sentire dappertutto dappertutto ma vi dirò di più aspettatevi lo sbarco su un altro social tra poco perché qui ormai ci si espande si cresce si conquista l'universo e arriviamo anche su twitter quindi state sul pezzo perché è next step twitter quindi 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 allora hai sentito parlare di cipi coin grazie assolutamente no mai sentita nominare ciao Luke impeccabile come sembra ancora complimenti ma ti ringrazio se si hanno pochi bnb o non se ne ha proprio visto l'incremento di prezzo per operare su bsc diventerà praticamente impossibile giusto si è sempre costretti ad avere bnb per le operazioni ma guarda considera che si è vero bnb aumenta di prezzo ma non è che tu devi usare una quantità industriale di bnb per pagare le fee quindi si magari il costo aumenterà adesso non so quanto costa è da un po' che non faccio transazioni quanto costa ve lo chiedo per curiosità ad esempio dare liquidità su pancake swap adesso quanto vi costa 50 centesimi sempre giù di lì o sono aumentate le fee però io non mi aspetto un enorme impatto ecco dal punto di vista operativo 10 dollari no impossibile 5 guai ah ok 3600 ok no perché 10 dollari mi sembra un po' tanto per la bsc circa 50 centesimi e infatti mi ricordavo anche io una roba del genere anche perché comunque le fee sono 10 dollari su autofarm ah è perché su autofarm ci sono un po' più di operazioni 10 dollari su venus anche beh sono aumentate un po' devo dire bene bene non male non male e comunque tornando al tema binance chain defi eccetera 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 io vi dico la mia opinione perché mi avete chiesto tante cose io me le mi sono segnato alcune delle domande più frequenti oltre all'analisi di prezzo di bnb che poi la facciamo ma avete chiesto cosa ne penso un po' della lotta bsc versus ethereum andiamo a vedere innanzitutto lo stato dell'arte di questa lotta quindi defi station e defi pulse che sono un po' i due riferimenti per vedere che controvalore c'è bloccato nelle due chain 31 miliardi su bsc 52 su ethereum e bsc arriva sta arrivando e al di là di tutto io parlo da utilizzatore di entrambe ok quindi non voglio dire non voglio fare quello non lo so le itero il fanboy per definizione io le utilizzo entrambe possiedo entrambe le coin quindi anche tra l'altro ultimamente col pump di bnb sto arrivando ad avere tra un po' avrò più bnb che ethereum in allocazione di portafoglio vi dico solo questo e detto questo comunque io vi dico quello che penso allora al momento bsc non ha portato nulla di nuovo ok ha preso la defi che c'era su ethereum l'ha spostata cioè l'ha copiata tra virgolette sulla binance smart chain l'ha resa più accessibile sì quello è sicuramente un pregio perché le fissono più basse quindi è accessibile al cliente medio all'utente medio che su ethereum non può operare perché le fissono proibitive l'ha resa più come dire user friendly al costo della centralizzazione della decentralizzazione perché la bsc è comunque di fatto una blockchain centralizzata i validatori in buona parte sono in mano a binance e comunque sono un numero limitato di nodi mentre ethereum dalla sua ha la decentralizzazione ha le fissi più alte e ha comunque una minora usabilità ecco questo è vero lo devo ammettere e è questo che ha portato anche me perché comunque io ok sì parteggio per la decentralizzazione e penso che nel lungo periodo sarà ciò che fa la differenza perché altrimenti insomma si parla di cefai se utilizziamo block file o nexo è la stessa cosa e quindi io credo che sul lungo periodo dal punto di vista fondamentale una volta superato questa barriera superata questa barriera iniziale delle fee molto alte della difficoltà d'uso ethereum comunque rimarrà ethereum con le maiuscole quindi io credo che sarà lei a portare avanti poi lo standardo delle dap quindi questo è il mio punto di vista da utilizzatore e da comunque appunto persone in cerca di profitto in cerca di opportunità chiaramente io utilizzo anche bsc perché al momento ci sono degli apy ottimi un rischio rendimento eccezionale perché il rischio lo reputo basso il rendimento è eccezionale usabilità altissima perché sembra veramente di interagire con un con un sito web qualunque senza utilizzare blockchain è tutto immediato è tutto veloce a basso costo e quindi io da utilizzatore vi dico ottima da come dire idealista vi dico io in futuro superato questo problema io mi aspetto che la crescita dell'ecosistema continuerà su ethereum e quindi attenzione all'eccessiva fomo su questa cosa si parla di bsc di bnb che supera ethereum può succedere perché in passato anche ripple ha superato ethereum per capitalizzazione anche bitcoin cash però parliamone ok quindi non mi stupirebbe che bnb superasse ethereum e non cambierebbe assolutamente nulla dal punto di vista di investitore che io sono nella mia allocazione di capitale seconda cosa e di sicuro non mi metterei a urlare contro a bsc perché non si fa basso binance eccetera eccetera io lo continuo ad utilizzare come faccio adesso e basta però il mio pensiero rimane quello ok spero che sia molto chiaro e trasparente ovvero il fatto che la decentralizzazione è ciò che fa la differenza nella defy altrimenti perde davvero tutto il senso e lo stesso vale per gli nft insomma sono nati su ethereum poi sono stati un po' copiati di là e alla fine questo fa capire come la vera innovazione parta e rimanga su ethereum bene detto questo io continuo con le vostre domande allora vediamo poi facciamo l'analisi del grafico la faccio nella parte dedicata alle analisi stesse così teniamo la parte grafici un po' tutta insieme dunque 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 vediamo un po' quando prossimi video su strategie di trading presto 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 ne volevo fare uno giusto le prossime volte bitpanda è una piattaforma valida ho consigli di cambiarla ma io la trovo estremamente valida quindi per me è un sì poi che ne pensi del progetto di tlm mi sembra che stia facendo parecchio parlare di sé sì quello che sbarca domani giusto su binance c'è il listing domani io me lo sto farmando come veramente un gran contadino e ho intenzione di damparli tutti domani vi anticipo questa cosa perché io non sono un investitore del giorno 1 e lo sapete io li farmo nei launch pool finché si può quando c'è una coin nuova io mi concentro sempre li concentro tutti i bnb lì per farmare ai massimi per farmare il più possibile giorno 1 si dampa tutto perché di solito c'è della price action interessante poi se uno mi chiede ma tu ci investiresti ma cosa ne pensi allora è troppo presto cioè i presupposti ci sono sembra interessante ma quale progetto non sembra interessante prima dello sbarco sul mercato ditemelo un po' a voi se un progetto non sembra interessante prima di sbarcare a mercato vuol dire che ha lavorato con i piedi soprattutto il dipartimento marketing e quindi io direi freniamo un attimino tutta la nostra euforia sulle come dire sull'immaginare il futuro di questo progetto rimaniamo con i piedi per terra e cerchiamo di capire che un progetto nuovo appena listato senza un prezzo di riferimento senza uno storico è una scommessa gigante cosa che io non farò poi Luke ti volevo chiedere secondo te qual è la strada più conveniente se da euro in conto corrente voglio arrivare a USDC su Celsius allora dunque fammi pensare o Coinbase e non so se c'è la coppia euro-USDC oppure Binance si cambia in Bitcoin e poi si cambia in USDC sono due trade allo 0,075% di fil 1 e poi c'è la fil di prelievo di USDC che è un po' antipatica mi sa che cos'è 20 dollari mi pare per gli RC20 se non erro è giù di lì comunque secondo me è quella un po' come si chiama la la strada più rapida hai mai sentito parlare di Gala Games e Mirandus cosa ne pensi del Play to Earn allora li ho visti sulle pubblicità di Brave perché sai che quando apri qua le nuove schede ti compare la pubblicità sotto ecco qua c'è i toro che ormai mi appare anche nei sogni tra un po' ma mi ricordo che tra le pubblicità compariva anche qualcosa di Gala Games adesso volevo aprirne mille ma c'è il limite agli ads quindi non me le fa più vedere però mi sono fermato e ti dico la verità del Play to Earn invece penso tante tante cose positive perché è un nuovo modello reso possibile appunto dal dalle crypto di fatto il Play to Earn dove tu giochi e tramite il gioco stesso anche senza investire nulla tu puoi ottenere un guadagno che è ad esempio su Axie Infinity tu fai le battaglie guadagni le pozioni le SLP che poi le puoi vendere su Binance oppure ci sono tante altre insomma tanti altri esempi che potrebbero calzare secondo me il gaming e il Play to Earn sono destinati a crescere tantissimo io penso che superati sempre i problemi di scalabilità eccetera eccetera il settore del gaming sarà un trend veramente di proporzioni mastodontiche io ci credo veramente tanto dunque 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 vediamo allora sto andando a scorrere un po' di domande ma quando ci sono delle crypto che pompano così tanto in poco tempo conviene proteggersi da un possibile dump convertendola in coin più stabili e guarda anche qua una domanda da un milione di dollari perché se noi sapessimo cosa accadrà in futuro potremmo agire di conseguenza cioè bisogna sempre farsi la domanda canonica tu perché hai preso una posizione se avevi preso la posizione esempio su BNB perché avevi visto un setup particolare di trading e volevi andare a cavalcare un pump allora ci sta che tu prendi profitto caspita hai ottenuto il tuo obiettivo take profit il più possibile se al contrario non lo so tu avevi hai una visione di medio lungo termine e magari vuoi solo incamerare una parte del profitto perché di fatto dopo un pump che ha fatto per due ad esempio tu dici beh caspita quasi quasi ci sta come ragionamento magari prendi una parte di profitto non chiudi tutta la posizione ma ne chiudi il 20% è un'altra alternativa poi dunque vediamo cosa ne pensi di The Sandbox e Sand The Sandbox è un altro progetto per cui ho un debole nel senso lo trovo molto interessante non ci ho mai investito su Sand ho delle land se vi ricordate ve l'avevo detto già da tempo ero riuscito a prenderle in prevendita me le tengo strette però Sand non lo possiedo non ci ho mai investito come progetto ve l'ho detto gaming secondo me è una non dico una sure bet ma non parlo della crescita del prezzo del token io parlo della crescita del settore sono due cose diverse settore gaming su blockchain io lo vedo veramente veramente bene allora 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 vi chiedo di non spammare le stesse domande più volte per piacere posso chiederti un'opinione su un portafoglio ma si dai 45% bitcoin 25% ethereum 8% kusama 8% engine croce in link stellar polkadot 1% doge non arrabbiarti guardo 1% doge te lo concedo non mi arrabbio perché ha senso nel senso che comunque tu una piccola parte di gambling la butti su doge e se pompa sei contento te lo concedo assolutamente poi 45% bitcoin 25 ethereum ci può stare a un portafoglio ad alto rischio tutto sommato e tutte queste altcoin insomma appunto lo rendono un portafoglio ad alto rischio non ci sono dentro delle vere e proprie shitcoin forse la peggiore è stellar dal mio punto di vista particolare ma kusama engine cro chainlink e polkadot mi sembrano tutte comunque assolutamente dignitose te l'ho detto lo trovo un portafoglio tutto sommato ad alto rischio perché comunque è molto esposto ad altcoin ad alta volatilità e con quella parte di gambling di doge però ha un senso quanto meno poi che ne pensi di uni domanda lampo quando la vendo per accumularla ma cosa vuol dire quando la vendo per accumularla si compra per accumularla cosa ne penso di uni uni swap è ottimo e uni altrettanto però se vuoi andiamo a dare un'occhiatina anche al grafico uni btc orca ecco perché ecco perché me lo chiedi ha pompato allora andiamo a vedere un attimino il grafico anche se adesso essendo in zona un po' top vediamo il settimanale no il top non cambia rimane sempre allocato quassù dunque allora cosa abbiamo qui abbiamo un possibile costrutto fortemente accumulativo in fase terminale guardate tra l'altro qua c'era il nostro clasterino pack che è stato preso alla perfezione ricordo il setup del cluster che è quella candelina rossa durante un trend verde oppure candelina verde durante un downtrend rosso per l'effetto inverso vedete questa candelina qua genera di fatto una zona di supporto finché vale poi diventa resistenza se rotta ribasso comunque abbiamo una zona di supporto che ha tenuto respinta un po' di lateralità all'interno di un range di fatto siamo rimasti qua dentro e adesso c'è tutta un po' di domanda intenzionata ad andare a cozzare contro il range high e vediamo perché se ce lo rompe andiamo di nuovo in price discovery e quindi e quindi e quindi c'è la possibilità di cercare poi le posizioni long dopo il break ho sul retest della zona di liquidità che si trova in tutta questa area dalla chiusura della candela fino al top della shadow o altrimenti rompiamo chiudiamo qui iniziamo ad andare verso l'alto alla prima fase di o lateralità o storno ci sono opportunità di costruzione posizione long per adesso non lo so mi sembra un pelino prematuro ok quindi c'era la possibilità in questa zona c'era la possibilità sul range low sul falso break del range low però si ferma lì per il momento poi 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 allora se voglio investire grandi somme in bitcoin pro e contro di usare un etn etf quindi non detenendo bitcoin allora i pro ovviamente sono sulla custodia tu non ti devi preoccupare di custodire bitcoin chiave privata mica chiave privata wallet seed tutte queste cose qua e altri pro fammi ci pensare beh magari dal punto di vista fiscale normativo hai meno problemi perché nel dichiararlo tu dichiari io possiedo un etf e è veramente più semplice di dire io possiedo bitcoin su questo address così è da fare la plus valenza minus valenza tutte quelle robe lì un po' aleatorie che non si sa bene mentre i contro sono le commissioni più elevate banalmente e tu hai delle commissioni di gestione sull'etf e di altri contro non me ne vengono in mente magari c'è un pricing non perfetto non lo so qualcosa di qualche commissione nascosta ecco e ovviamente la non detenzione di bitcoin quindi esci un po' dalla filosofia di bitcoin però da investitore non so quanto te ne possa fregare poi allora bnb mi ha sballato tutto il portafoglio non so se aspettare che torni alla normalità o se bilanciare non dirlo a me guarda non dirlo a me allora ti rispondo dipende dalla strategia che vuoi adottare anche lì ti conviene avere un modus operandi in anticipo cioè a priori da non aspettare che accada e pensare se appunto c'è un pump di questo tipo forzo il ribilanciamento o aspetto perché le due opzioni sono quelle l'opzione numero uno di forzare il ribilanciamento tu dici se c'è un pump di una delle mie dei miei comparti sopra una certa soglia quindi fa più del più 50% nel periodo quindi entro il mese del ribilanciamento forzo il ribilanciamento è come fare una sorta di take profit alla fine e lo stesso al contrario così sei un flash dump tu entri e forza forzando il ribilanciamento altrimenti aspettare il termine del tuo periodo lì dipende assolutamente da te però hanno senso entrambi gli approcci ecco poi 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 ciao voglio acquistare la crypto cardano e tenerla sul wallet ioroi hai qualche consiglio o mossa da fare guarda purtroppo non ho mai acquistato cardano e non so esattamente come possa funzionare quindi ti direi di cercare qualche tutorial secondo me lo trovi poi vorrei mettere a rendita gli usdt su binance trovo staking circa al 6% pool di liquidità al 10% e invece su autofarm trovo usdt al 37.8% di apy dove sta la fregatura non c'è la fregatura in verità è un sistema diverso cioè tu su binance lo presti banalmente in liquidità su autofarm hai lo yield farming hai una cosa hai l'altra ti appoggi a venus eccetera 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 è un po' più complesso sempre su binance qual è la differenza tra prendere a prestito ether dalla funzione prestiti crypto tasso dello 0,05% al giorno e prenderli a prestito con il margin trading come mai tassi differenti per la stessa coin se non erro il prestito prestiti crypto richiede però un collaterale giusto e se tu prendi un prestito da lì io credo che tu lo puoi spostare anche fuori binance sul margin trading forse no sei circoscritto all'area del trading quindi devi utilizzarlo su binance per tradare mi pare dunque come funziona la carta di credito di binance bisogna depositare dei bnb e lasciarli sulla carta oppure a inizio mese devi pagare la cifra spesa allora attenzione che non è una carta di credito è una carta di debito quindi la spesa è istantanea immaginati di avere una prepagata ok dove tu puoi andare a depositare bnb oppure euro oppure diverse coin e in sostanza tu le depositi prima di fare l'acquisto fai l'acquisto quando fai l'acquisto devi avere ovviamente abbastanza denaro abbastanza controvalore per portarlo a termine ti viene scalato immediatamente il capitale e poi ti danno il cashback nei giorni a seguire però non è appunto una carta di credito dove ogni 10 del mese o quello che è ti arriva il pagamento ma è istantanea tu strisci e paghi ciao Luca saluti dalla Crypto Rimini un giorno riuscirò a tornarci anch'io quando ci sbloccano un attimo anzi adesso teoricamente c'è da aspettare un po' che riapra qualcosa però in Romagna ci voglio tornare per partecipare a un lancio di Binance i BNB devono essere miei o posso prenderli a margine e no devono essere tuoi troppo bello se no nella launch di TKO in fondo ai dettagli c'è scritto periodo di vesting per la private sale blocco per 6 mesi e successivo sblocco mensile dell'8,33% significa che non posso vendere subito non riguarda te riguarda la private sale che è una vendita privata che è avvenuta prima del launchpad quindi il launchpad è la public sale la private sale è una vendita privata tra investitori privati per l'appunto che l'hanno acquistato sicuramente a prezzi più bassi in cambio però di un vincolo per tot mesi non riguarda te però riguarda la private sale per l'appunto poi 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 oggi parli di BNB e del suo assurdo aumento allora è giunta l'ora di andare ad analizzare il grafico di BNB oggi partiamo con BNB prima ancora di Bitcoin quindi straordinariamente facciamo questo allora parto con BNB Bitcoin poi guardiamo anche BNB USDT perché mi avete chiesto sia l'uno che l'altro e io voglio soddisfare le vostre richieste allora BNB Bitcoin adesso ve lo riassumo in una parola come ho anche scritto poi sull'analisi fatta su Telegram parentesi seguitemi su Telegram pubblico ogni giorno analisi, news e quant'altro insomma è un bel feed di contenuti utili tutti gratuiti ogni tanto vi scillo qualche referral link ma dai ormai mi dovreste conoscere e poi basta quindi vi lascio il link in descrizione oppure qua su Twitch già ce l'avete giù sempre nelle info del video adesso è intoccabile ok cosa vuol dire se qualcuno mi domanda ma tu compreresti adesso BNB la mia risposta è no basta tutto lì cioè lo comprerei se lo dovesse utilizzare per pagare le fee di Binance per pagare il gas sulla BSC o così via ma per una posizione speculativa no per quale motivo guarda guarda che grafico cioè guarda che roba siamo in crescita parabolica è totalmente parabolico questo grafico e soprattutto siamo in price discovery siamo in prossimità di un massimo quindi in una situazione come questa è auspicabile il trading intraday quindi se scendiamo sul time frame 30 minuti ad esempio magari qualche setup lo possiamo anche trovare ma su un time frame giornaliero io adesso mi concentro ovviamente non sullo scalping ma sullo swing trading come si suol dire quindi un'operatività di medio respiro medio termine acquistare cioè trovatemi un setup io sfido chiunque a trovare un setup qui ok sulla candela di oggi non esiste non c'è nessun setup ecco né long né short perché andare a shortare una roba così in FOMO vuol dire regalare lo stop loss al mercato entrare long invece in una cosa così in FOMO ripeto significa cioè non lo so cosa significa significa voler regalare il proprio capitale perché è vero può continuare a pompare magari lo farà in preda alla FOMO ma che trade è cioè dove metti lo stop loss dove dove sta il ragionamento dietro a un trade del genere ok ci sono state in passato tante occasioni di entry su ABNB le avevamo viste durante questa fase laterale me lo chiedevate più o meno tutti i giorni ABNB e noi osservavamo che c'era questo range c'erano le due aree e c'erano le possibilità di grattare a ogni pesca dal range low quindi andava a lateralizzare c'era la possibilità di grattare poi lo stop loss era facile da mettere ok avevamo una situazione a rischio contenuto con una posizione ripeto estremamente controllata e ben fatta stop loss ben posizionato take profit potenziale cioè con un upside potenziale veramente alto trend follower e quindi se si è preso una posizione in questo modo ci sta a tenerla aperta perché comunque il trend non è ancora minimamente esaurito però se si ha un prezzo di carico che sta qui è diverso che andarsi a prendere un prezzo di carico che sta qui andare a chiudere una posizione ad esempio aperta in questo modo con ottica trend follower lo si può fare se ci dovesse essere che ne so un costrutto di top ok quindi un'inversione di struttura allora lì si può dire bene vado a chiudere quella posizione perché è arrivato il momento del termine del trend posizione trend follower lo dice la parola stessa quando il trend va ad esaurirsi o a invertire io chiudo la posizione e questa è un po' la soluzione al problema mentre prendere posizione non è cosa perché è iperesteso è parabolico non c'è nessun tipo di supporto in prossimità non c'è niente di niente e quindi il massimo che si può fare per voler andare a cercare il primo possibile by the dip è andare semmai sulle 4 ore che però come potete vedere riportano il primo supporto qua giù nell'area 0.008 fino volendo possiamo estendere i pull fino a 0.00831 questa area quindi se proprio vogliamo andare a designare un'area di by the dip possiamo andare a pescare questa qua sul giornaliero ovviamente qua non esisteva nulla è una cosa sulle 4 ore e scriviamocelo anche facciamo così in dimensione un po' più contenuta ci scriviamo pull domanda 4 h eccola qui così ce lo teniamo salvo il grafico e la prossima volta che aggiorniamo le nostre analisi teniamo d'occhio questo livello ma questa è una posizione estremamente aggressiva però almeno c'è un setup capite qual è la differenza che se io entro su una situazione di questo tipo vedete che qui ho il riferimento per lo meno per lo stop loss noi ci stiamo stiamo andando a prendere posizione su un pool di domanda generato da questa shadow e da queste candele che a loro volta hanno costituito una pausa durante l'up trend quindi ci fanno da riferimento anche per lo stop loss lo stop loss in caso di chiusura qua sotto e il trade improvvisamente acquisisce un senso che è diverso dall'acquisto alla cieca così solo perché deve salire perché c'è fomo perché prendere posizione in pre dalla fomo non porta mai a niente di buono fa anche quasi rim mentre dal punto di vista dell'investimento di lungo termine qualcuno mi ha detto ma cosa ne pensi di BNB come investimento a lungo termine eccellente io stesso investo a lungo termine in BNB però non ti può venire in mente adesso che BNB è un buon investimento a lungo termine che costa 600 dollari ecco anche lì bisogna ragionare sul cosa vuol dire investire a lungo termine non vuol dire comprare in piena fomo e poi tenere lì sperando che salga ancora investire a breve termine a lungo termine vuol dire costruire con costanza con pazienza e continuità una posizione finalizzandosi poi ad abbassare il prezzo medio di carico quindi non può essere un acquisto così in pre dalla fomo perché questo è un autoinganno di reinvestire adesso a lungo termine è un fomo buy mascherato dal voler investire a lungo termine quindi siate sinceri con voi stessi e guardatevi allo specchio e dite ma sono sincero o no? sto dicendo una giga cazzata per fare finta di dare un senso a quello che voglio fare che in realtà è un fomo buy e basta e quella sarà la vostra risposta quindi tornando a noi BNB ottimo sul lungo termine ma se si vuole investire sul lungo termine ci sono i metodi dedicati lato speculativo io ci vedo questa possibilità andiamo a vedere in USDT lato speculativo perché lato lungo termine non cambia nulla vediamo allora sul daily abbiamo il primo supporto qua giù a 400 quindi è un pelino in basso mentre vediamo sulle 4 ore se c'è dell'altro c'è dell'altro abbiamo in particolare 484 e fino a 463 quindi 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 con lo stop loss volendo qua sotto facciamo anche a 440 lo stop loss per tenere un po' di respiro e volendo c'è appunto questa possibilità di entry area ok quindi ricapitolando tac andiamo a vedere sul daily ecco vedete è un po' simile come approccio perché di fatto se sulle 4 ore aveva lateralizzato in bitcoin allora anche su USDT la lateralità la posso comprendere anche qui ci possiamo scrivere pool domanda 4 ore in realtà questo 54 ore si ok questo più che un pool di domanda è un cluster di prezzo perché vedete è un range cioè lateralizzato quindi non è propriamente un pool di domanda chiamiamolo range ok che è più corretto di fatti se ci fate caso abbiamo anche il no non è vero è più giù però vabbè su quest'ultima parte del movimento non è altrettanto vero perché è più giù su quest'ultima parte del movimento cosa abbastanza ovvia abbiamo il point of control comunque qua cosa ovvia perché è un movimento in linea retta con un'unica lateralità che è ovvio che poi ti diventa il POC quindi questa è la situazione su BNB spero di aver spiegato esaustivamente e risposto esaustivamente a tutti i vostri dubbi se ne avete altri chiedeteli poi andiamo a vedere BTC al contrario quindi BTC abbiamo detto che non sta facendo particolari movimenti particolari exploit ma è sempre 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 lì che sfida la resistenza che è il massimo storico a 62.000 vedete qua sopra allora facciamo una cosa qui si c'è il bel pool di offerta che adesso in realtà mi piacerebbe come lo possiamo fare no perché ho sbagliato a selezionare scusate sto facendo dei POA in giro per il grafico ok va bene allora questo non è più rosso ma è giallo giallo perché ci troviamo a cavallo del pool stesso non l'abbiamo ancora riconquistato del tutto ma neanche non fa più neanche da pool di offerta quindi è giallo abbiamo un pool di offerta questa volta sì in zona qua sopra ok in zona top come vedete di nuovo tra la chiusura delle candele e il top della shadow questo è il pool di offerta da qua pam vedete origina offerta perché ogni qualvolta lo andiamo a grattare offerta e mi butta giù tac offerta e mi butta giù la volta che la mangiamo tutta l'offerta quindi che la domanda è sufficiente per comprare tutti gli ordini in vendita che ci buttano giù allora lo superiamo e in tal caso inizia una nuova fase inizia un nuovo ciclo chiamiamolo come vogliamo termina la fase laterale e inizia la fase di price discovery allora io qua voglio fare anche un discorso dal punto di vista più fondamentale tra virgolette il tutto è estremamente bullish cioè il grafico è una roba clamorosamente bullish schifosamente bullish e quindi tutto questo non lascia come dire il adito a particolari posizioni short a particolari motivi per non essere bullish cioè abbiamo un grafico che parla da solo però io vorrei contestualizzare il tutto con la situazione nella quale ci troviamo e che ho portato anche alla vostra attenzione su facebook oggi ho detto ma siamo in una situazione in cui praticamente è impossibile non guadagnare cioè stanno guadagnando tutti sia che siano super schillati e conoscono bene i progetti gli investimenti e quant'altro sia la casalinga di voghera che arriva compra una shitcoin perché l'ha letta da qualche parte in giro gliela ha shillata qualcuno e guadagna perché sale anche quella è una situazione questa che a me fa riflettere mi fa dire ma in che stato siamo cioè siamo veramente in full fomo in full retail mode cioè i retail i pesci piccoli la casalinga di voghera stanno dominando il mercato e di solito quando succede così è un campanello d'allarme perché perché prima o dopo il mercato punisce queste situazioni e le punisce con cattiveria quindi è vero che è tutto bullish e pistola alla tempia io direi sicuramente parte un'altra leg up e magari arriviamo anche a 100.000 non lo so però è altrettanto vero che bisogna essere pronti a un'epurazione che prima o poi deve arrivare cioè impossibile che la situazione del mercato cripto continui così ancora lungo cioè veramente è allucinante è una situazione che sta diventando troppo bella per essere vera quindi guardia alta mi raccomando sappiate cioè tenete a mente queste cose non vuol dire ovviamente di vendere tutto scappare via anzi è tutto bullish ve l'ho detto però tenere alta la guardia nel senso di se parte se la shitcoin fa buoni profitti e tutto non volerla holdare a vita magari ma pensare a una politica di take profit a una politica di riduzione del rischio e comunque gestire in maniera sensata e furba il portafoglio anche in maniera appunto orientata a lungo termine venendo ai livelli di prezzo noi abbiamo come adesso supporto i 59.000 quindi questo livello qua come vi dicevo qua sotto c'era la entry area che adesso è stata spazzolata e ha fatto il suo dovere vi ricordate qualche live fa l'abbiamo detto l'entry perfetto era in stile in pieno stile clickbait che ultimamente mi ci sto veramente sguazzando e comunque scherzi a parte c'era la possibilità di ingresso da questa parte adesso di possibilità di ingresso non ce ne sono più tante prima del breakout perché ci troviamo veramente nell'ultima area nell'area di culmine anche qui ottiche in tre day si si può giochicchiare sui rimbalzi da qua a qua però ottica invece di voler guardare tutto questo time frame giornaliero come la ricerca di un setup è il prossimo setup il breakout mi dispiace la rottura stessa dei massimi storici la chiusura quindi qua sopra quindi si può cercare poi l'entry sul pool di liquidità che qua diventi in domanda e non più in offerta lo stop loss lo si può mettere adesso c'è da vedere la candela di breakout da dove origina perché se originasse da qui ad esempio questo sarebbe un ottimo punto dove andare a posizionare lo stop loss e c'è da vedere un po' appunto come si configura l'eventuale breakout che sembra avere veramente tanta tanta voglia di avvenire nel caso in cui non dovesse avvenire c'è sempre questa area come un papabile entry nel caso in cui facciamo un altro un'altra capata sul range low prima di andare appunto a colpire a fare l'exploit del nuovo massimo lo stop loss in questo caso come avevamo detto l'altra volta si può mettere o qua sotto quindi sotto i 54 e 2 in caso vogliamo una posizione un po' più aggressiva e speculativa oppure qua sotto al precedente minimo 51 mila per una posizione più di ampio respiro e più orientata appunto al medio lungo termine il caso bearish tanto lontano ma comunque sempre possibile è invece la creazione appunto di nuovi minimi qua sotto ok questa è la possibilità poi ultima cosa andiamo a vedere Ethereum quindi Ethereum Bitcoin che ormai è d'obbligo Ethereum Bitcoin siamo sempre lì quindi lateralità vedete questa bella lateralità sopra a questa W quindi a questo possibile costrutto di bottom di nuovo pool di liquidità in domanda qua sotto possibile entry la cosa non cambia possibile entry nel pool di liquidità con stop loss sotto a questo supporto storico 0.0335 e poi il tutto con un'ottica trend follower nel caso in cui dovesse andare appunto di nuovo a fare a recuperare il trend rialzista se il contrario ci perdiamo questo supporto storico e ritorniamo qua giù e insomma non benissimo perché andiamo a cercare un low se il low è sempre da queste parti allora sarebbe un pessimo segno perché di fatto il trend non ci sarebbe e ci sarebbe anzi possibilità questo diventerebbe una deviazione cioè breakout deviazione rientro riassorbimento un falso movimento quindi sarebbe un quadro un po' più bearish bisogna essere pronti a tutto leggo qualche vostra ultimissimissimissimissimissimissima domanda su FTX quali azioni tokenizzate ti piacciono? ma guarda cioè lì è come dire quali azioni compreresti non c'è alcuna differenza non perché sono su FTX allora c'è qualcosa di particolare a proposito di FTX vi volevo dire un'ultima cosa un'ultima cosa dunque ritorno su FTX visto che si parlava un po' di Solana mica Solana vi sto preparando il video su Solana è stato listato su FTX si chiama SE Seco Serum Ecosystem Pulto che insomma potrebbe andarci un nome più semplice ma questo è un ETF di fatto è spot quindi non c'è non è solo il future e contiene in pesati per capitalizzazione Solana Serum Maps Liquid Bonfida Radium e Oxygen ok tutti appunto del mondo Solana Serum dintorni Alameda e roba varia roba mistica varia ve lo volevo solo segnalare sappiate che esiste e è tradabile da oggi se non erro lo storico è lungo ma mi pareva che l'avessero introdotto oggi mi pare di aver letto così poi prima live abbonato al canale to the moon grande sei il numero uno ringrazio sempre chi si abbona con Amazon Prime potete farlo gratuitamente e però va rinnovato ogni mese grazie 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 che ne dici di Engine potrebbe tornare entro fine aprile al suo massimo di 336 vediamo andiamo ad analizzare Eng Usd dai 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 Usd eccolo allora 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 e guarda il trend è fortissimo ed è molto bullish quindi ti direi che non c'è motivo di farsi prendere dal panico abbiamo un supporto qua giù a 2.66 che magari lo andiamo a ritestare magari no qua sopra c'è un po' di domanda quindi ti dico per ora il trend è assolutamente forte se andiamo a perdere questo livello e magari anche i due i due dollari allora ci si può iniziare a preoccupare di inversione del trend ok vedi qua c'è un intervallo di lateralità e se lo andiamo a perdere c'è anche un cluster guardate che sorregge tac clusterino bellissimo verdino oppla se andiamo a perdere questi due livelli allora è male altrimenti niente di cui preoccuparsi e dunque 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 se può tornare ai massimi non lo so nel senso bisogna vedere come reagisce in particolare qua che ha la sua prima primo supporto che dovrebbe insomma sostenere il movimento e causare un'altra leg up sta di fatto che è messa molto bene ma attenzione all'iperestensione hai comprato il top hai comprato il top ti capisco ti capisco allora allora amici un'ora e dieci no scusate è troppo devo salutarvi non avevo visto il timer noi ci rivediamo sempre live mercoledì quindi state sempre sul pezzo mercoledì alle 19 lunedì e venerdì alle 18 mercoledì alle 19 su twitch quindi se siete su youtube parlo sempre per i postumi avete trovato il link nella descrizione del video per seguire la diretta e interagire con la diretta facendo domande quindi vi aspetto su twitch mi trovate è gratuito non serve per seguirmi non serve non è neanche obbligatorio creare un account per fare le domande ovviamente sì ma è tutto gratuito è un altro youtube è come se fosse così poi 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 basta vi lascio il mio referral link a PrimeXBT mi raccomando nel nei commenti così ve lo scillo un po' e se vi interessa partecipare all'airdrop sappiate che arrivano i promo code da 0.0035 BTC per PrimeXBT che ve li airdropperò nei live la prossima settimana tenetevi pronti quindi col profilo di PrimeXBT bollente perché saranno tutti vostri vi auguro una buona serata e ci vediamo dopo domani alle 19 sì giusto ciao a tutti di nuovo